La Lega di Salvini non mantiene la tendenza nazionale in provincia di Salerno e si classifica seconda dopo il Movimento 5 Stelle con uno scarto di circa 12.000 voti. 950.000 elettori dunque in provincia di Salerno, suddivisi in 1.159 seggi che hanno prodotto i risultati delle elezioni europee 2019 e che hanno visto appunto il Movimento 5 Stelle è attestarsi con circa 125.000 voti con il 26,6%, a seguire la Lega con circa 113.000 voti e il 24%, terzo classificato il Partito Democratico con 87.000 preferenze e il 18,6%, Forza Italia riceve 58.000 voti con il 12,5%, Fratelli d'Italia si attesta circa 38.000 voti con l'8,2%, più Europa 17.000 voti con il 3,7%, la Sinistra 8.400 voti con l'1,8%, Europa Verde 7.000 voti con l'1,5%, il Partito Comunista con 3.400 voti e lo 0,7%, risultato quasi simile per il Partito Animalista. A seguire in coda il Popolo della Famiglia, Popolari per l'Italia, Casa Pound, Forza Nuova e Partito Pirata che non raggiungono nemmeno lo 0,5%.